Ogni anno in Toscana nascono circa 20 bambini sordi e di questi 7 sono al massimo grado di gravità, in gergo sordi profondi. Tutti questi bimbi però se la patologia viene identificata in tempo possono imparare a parlare perfettamente, come è accaduto a Elena e Francesca che sin da piccolissime si sono rivolte al CRO di Firenze seguendo un percorso di rieducazione ortofonica. Fino all'età di 9 anni ho cominciato 8 mesi, anche questo mi ha permesso di poter vivere una vita normale, di prendere un percorso scolastico senza alcun sostegno. E senza il bisogno di imparare il linguaggio dei gesti. Il percorso di rieducazione inizia con l'ausilio di una protesi acustica e un lungo lavoro con il logopedista. Chiaramente il lavoro non è solo il CRO ma viene svolto anche da familiari, quindi è un continuo esercizio, cro e casa, che l'ho fatto fino all'età di 12 anni. Per trasformare l'esperienza del CRO in una pratica diffusa, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi ha presentato una mozione che invita la Giunta a stilare un protocollo per l'insegnamento della lingua ai sordi profondi, da aggiungere allo screening neonatale già disposto con il piano sociosanitario 2012-2015. C'erano degli impegni che la regione ancora però non ha portato avanti, era quello ad esempio di avvicinare centri analoghi a questo in tutte le province. Anche perché il percorso di rieducazione è lungo con i bambini che devono recarsi al CRO per un'ora al giorno, cinque giorni alla settimana. Ci sono dei bambini per cui basta poco tempo, per altri che ci vuole più tempo. Il problema, l'obiettivo però è sempre lo stesso, la lingua orale per tutti. Perché come diceva Don Milani e come ripeto sempre io, è solo la lingua, la lingua orale, la lingua di tutti che ci fa uguali.